Il COPD è diventato una causa principale di morte in tutto il mondo. Penso che l'impacto delle malattie respiratorie aumenta anche in Italia? Sì, sì. Ma dal punto di vista dei certificati di morte non sembra il caso perché stiamo vivendo un trend per diminuire tutte le cause di morte. Ma in termini della prevalenza delle malattie, abbiamo recentemente pubblicato i risultati dell'epidemiologico in Italia che costruzono 25 anni. Abbiamo visto che c'è definitivamente un trend per aumentare sia il COPD e l'asthma. Come potete migliorare la gestione del paciente? Penso che con alcuni strumenti. Una, sicuramente, sono le nuove possibilità che vengono da telemedicine e dell'internet e-mail controllo con i medici. Ciò che necessitiamo è una relazione sostenibile tra i medici e i pacienti e anche la famiglia. Abbiamo visto, infatti, che c'è un problema di trattamento con i medici di rispiretori di rispiretori di rispiretori. Probabilmente, il fatto che la maggior parte della trattamento è per l'inhaler, con molti dispositivi, con i pacienti che sono diventati adulti. Quindi, abbiamo bisogno di più educazione e comunicazione tra i medici di rispiretori e i pacienti. Grazie a tutti.